Più 16,4% nel 2018, più 15,9% nel 2017. Padova e provincia confermano un numero stabile di cittadini stranieri nel loro territorio, seconda provincia del Veneto dopo Verona per presenze. Una fotografia che scendendo nel dettaglio ci porta a riconoscere le presenze suddivise per nazionalità. Ai cittadini romeni seguono moldavi, cinesi e nigeriani. Un dato anche questo ormai stabile per la città capoluogo, dove resta l'Arcella, il quartiere con maggiore presenza di cittadini stranieri, con una tendenza confermata di circa una persona su quattro. Tanto che in alcune scuole il numero di bambini e ragazzi figli di stranieri supera la metà degli iscritti. A partire da questi dati si può davvero fare una riflessione sulla nostra realtà, diversa da quella della narrazione che semplifica tutto e che in realtà non tiene conto della complessità che la caratterizza. Se Padova con Venezia resta la città dove è maggiore il numero di stranieri titolari di permessi di protezione per motivi umanitari, proprio dalla città del Santo si alza di nuovo la voce sui possibili effetti dell'applicazione del decreto sicurezza con la fine dello Sprar e il divieto di iscrizione anagrafica. Togliere l'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo ha come effetto quello che il comune non sa, chi c'è sul suo territorio. E lo stesso, l'elemento che ci preoccupa di più sicuramente è l'abolizione del permesso umanitario. Questa gente che si trovano senza un tetto, senza mangiare, si trovano per la strada, dove vanno? E rappresentano un terreno molto fertile per chi vuole delinquere. Più di mille gli stranieri che per il comune rischiano di essere potenziali fantasmi.